Salve a tutti, scusate il piccolo annuncio pre-video, ci tengo a darvi un paio di informazioni, allora ho sempre preso Squad molto seriamente nel suo gameplay, ma di recente, viste le partite a tra virgolette bassa qualità di contenuti, ho deciso di fare questo video che dovrebbe teoricamente spezzare quelli un po' più seri. In questo video sostanzialmente non abbiamo avuto un gameplay molto di qualità, siamo rimbalzati più volte tra Armored Car e tra Fanteria, quindi non c'è un gameplay molto lineare, però ci sono state parecchie cose molto divertenti e parecchie cose molto belle da vedere, quindi ho deciso di fare comunque questo video in cui non ci concentriamo tanto sulla qualità del gameplay, ma sul divertimento del gameplay. È stato comunque divertente da giocare e purtroppo la partita non è andata come volevamo, però sono riuscito a tirarci fuori questo video. Inoltre se vi interessa giocare con noi sappiate che questo qua è un server italiano, vi lascio il nome del server sullo schermo adesso, ogni martedì e giovedì sera ci trovate lì sul server perché ci sono questi due eventi dove sostanzialmente la community italiana si ritrova. Sono molto divertenti, i nomi sono praticamente gli stessi, infatti adesso da un po' che ci gioco sopra e inizio a vedere sempre le stesse persone, diciamo che è molto divertente come cosa. Spero di vedervi presto e nulla, vi lascio il video, buona visione. Oh yes, oh yes, oh yes, vai vai vai, buttali in gioco, muovetevi, fate strada, ci muoviamo, pazzo spostati. non è vero non più torno così era con un tacchino vai leon vai vai leon vai aspetta btr btr aspetta eh appunto sono insurgito cosa succede? scusa marcia ehi leon dacci un passaggio dove dovete andare? guardaci alla prima flag ok doki salita a bordo deja vu siamo arrivati che chill niente leon ci ha inculato il 30 senta ci tocca riprendere la scalda guarda c'è un SPG che ci spara da nottorso taglia pure taglia pure taglia pure taglia 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 tanto non hai 20 milimi però non così tanto non vedo c'ho il sole in faccia non vedo so che è una stronzata però non vedo perché proprio qua sopra vedi di prendere scarta e leviamoci dei coglioni scarta c'è un SPG si scarta è veloce 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 dai su sali che partiamo tu fai veloce prima di tutto dai ti do commander ti do commander possiamo levarci da qua prima di tutto vi prego seguite le strade per dio per favore per favore se no ci ribaltiamo era quella dove eravamo era quella dove eravamo va bene dai 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 dobbiamo fare qualcosa stiamo stiamo facendo nulla letteralmente no ragazzi ragazzi è una merda io qua non riesco a puntare niente indicazioni migliori non vedo nulla è il sole lo so no 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 via via da qua via da qua se c'è un veicolo non lo vedo scendi a valle piuttosto aspetta 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 a valle 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 o strade se avete bisogno di ammo ragazzi c'è il BTR a valle no il BTR è a corto di ammunizioni bTR è a corto di ammunizioni in arrivo in arrivo siamo otto siamo fermi 255 5, veloce, veloce Leon, veloce! Ricarico! Se non ci arriva un altro SPG, dai! Niente! Veicolo abbazzo! Ex scud, ex scud, scusami! Dimmi, 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 chi sei, dove sei? Sono buggato nell'MG, mi ammazzi, provo di tirarmi su di nuovo? Subito! Grazie! 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 Ragazzi, Crucible è sotto assalto! Non disponibile! Crucible è sotto assalto! Io ho automatico a Rhyme! Verso Crucible! Verso Crucible! Guarda! Come la situazione? Nessun contatto per ora! Siamo in hold con parecchia fantasia! Da nord hanno segnalato! In arrivo! Infatti ci attaccano! Dove mi sparma qua! Dove? Dove? Probabilmente ovest! Vedo smoke bianco 255 ovest! Arrivavano... Arrivavano da dritti i colpi! Sì! Occhio! Mortaio A! Grazie! Credo che abbiamo un cecchino! Sì! È davanti a noi! Ovest! Sud ovest! Ho ricevuto! Dove? Dove? Probabilmente nelle rovine davanti! 255 ovest! Toglieti! Toglieti! Toglietemi! Sì! A 233 ci sono contatti alleati! Guardate attenzione! Uuuu! Unazzo! 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 Dobbiamo fare il tampone! Non si sa mai! Raga, una cartiglieria in arrivo! Guardate la ma... Ho visto da dove arriva! Mi voglio godere lo spettacolo! Scusate! Unazzo! Unazzo! E' pieno di infanteria alleata però su quel costone Vittime sacrificabili La guerra è la prima Arrivano qui da là Da quella parte del costone Dio che spettacolo Ragazzi che scena cazzo Che scena Aspetta Aiuto Sono una mitagliatrice fissa Lascia di entrare a scart Provate a abbassarmi Mi sa che arriva Sono una falda acquifera Mi stai facendo morire Chi è che è sulla macchina? Vuoi uscire? Stai volando Sono umano No adesso c'è lui Mi chiamo a tutti io Prova a rientrare nella macchina È una maledizione Esci Oddio Abbassati Fai Z Isci Fai Z Z Ecco Sei diventata una pietra Sì Credo che Questa pietra Magari ti scavalca Una cosa del genere Scart non gli piantare Un proiettile in testa Non è così che affrontiamo I problemi Rientri alla macchina Tira tutta la testa Oh Cristo È scomparso Scomparso Oddio è finito È finito È finito È finito Ok no è un view Uccidetemi Io la direi No No Io non voglio farlo Io non voglio farlo La macchina Tipo Oh Cristo Bella La togliamo la macchina No No E niente Vamore Possiamo tirare la macchina Prima Che ci sia un'altra Oh no Perché lui è uscito bene Magico Basta Mettere tutto Tutto in alto Lui Lui è il predestinato Sono il prescente Sono il prescente Te sarei il prossimo Puntino Non è il Gm Scusate Ok facciamo qualcosa di serio No Continuiamo a sacrificare persone Su quella mitragliatrice No No Ok mi hanno visto Ok Cos'era Cosa sta succedendo Ti vengo a prendere Resisti Ti stavo per uccidere Leon Madonna Mi devo curare Sanitarlo Stiamo perdendo Non ruppare Sono vivo Buoni tutti e due Fermi 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 Allora raga Guarda che potrebbe provare un rally Quindi andiamo a fare un ottimo check A nord Andiamo Ok doki Vieni 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 qua Arrivo Arrivo Abbiamo un medico Ok Sì 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 Sta arrivando Come nuovo Il mochi muore Va alla base Si prende la 30 Si c'è ancora Bene Scarte il suicidio non va Cos'è un premio No Oh Oh Verdose di metadone Sì Ragazzi tornate indietro Servono a mano Sì arriviamo Sì arriviamo Sì è riuscito Non givappate amici Mi tiro tu Ok nessuno givappi Ok nessuno givappi Non givappate amici Non givappate amici Non givappate amici Mi in culo il cane Se li givappate Sì è logico E' della trema per me Oh Gesù Grazie 20 medici 82 medici per una persona Ah ti devo giù Grazie va bene Va bene Medico 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 E' dietro E' dietro il muro Non Tango down Proverranno Merda mi han preso Son dentro Il lab Possono arrivare Da più parti Mi servono tre di medici E' un errore Artiglieria terminata IED Ragazzi IED Ho visto E' arrivato il morto Riponate armor Armor Andiamo all'armor L'urlo però prima IED Prima dell'esplosione Qualcosa lì Molto cinematografico Sappiatelo In questa partita Ho ripreso Un botto di merda Tra bug e stronzate varie Delle cose estremamente cinematografiche E normale gameplay Titolo del video Tra merda e cinematografia I've seen some shit Abbiamo 9 ticket Ragazzi abbiamo 9 ticket Non give up Non give up Non give up Non sia speranza No vabbè Sette ticket abbiamo Proviamo No Grazie 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 Grazie